Mi raccomando, adesso dovete fare un bel regalino alla mia orchestra. Allora, noi vediamo i nostri tre musicisti, i tre, non possiamo portarli giù tutti altrimenti chi suona. Allora, vediamo il nostro tambettista, il nostro saxofonista, il nostro cantante, verrà insieme a voi. Mi raccomando, non ballate, non ballate, ma facciamo questo giro di questo motivo che di solito si fa esclusivamente all'ultimo dell'anno. Voi sapete, qual è la canzone che si canta all'ultimo dell'anno? I precisi vocali, qual è? Qual è? Qual è il motivo che si palla all'ultimo dell'anno? Nessuno lo sa. Vabbè, comunque, è il samba, voi dovete seguire loro, facciamo un trenino intorno alla pista. Signore, guardate, bionda, bionda, dove va? Stia qui, stia qui con noi, stia qui. Noi partiamo e voi seguite i nostri cantanti. Sì, 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 ecco, i musicisti devono stare davanti per fare la viva. Vai, così. Vai. Aggregatevi, salite, salite sul treno. E voi, musicisti, santi, almeno questo, almeno questo, sì. Vai, una strada, un pa' brava e fraga. All'intervole, che avrei una racista, stupenda, arca, rosca. Un pa' negli, come sa do' andà, come sa do' andà, come sa do' andà. Stiamo in pista, stiamo in pista, stiamo in pista, non scendiamo la pista. per prezzi, non rimane nessuno in pista, in pista. Ancogliente sulle carrocce, il più possibile di persone. Ancogliente sulle carrocce, il più possibile di persone. Aggregatevi, agregatevi, scusi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.